Noi abbiamo una mentalità, non è male, ma abbastanza chiusa perché ci sono solo i ciechi, si viaggia pochissimo, non si conosce il mondo. Io avevo la fortuna che c'erano i genitori abbastanza aperti, anche io avevo la possibilità di vivere in Italia, c'erano la famiglia in Olanda e così, di conoscere un po' la gente e lì mi sono reso conto che nella mia politica prima di tutto volevo essere molto pro-europeo, ma come faccio? Faccio spiegando alla gente anche durante la campagna come funziona la Unione Europea, perché è qui, perché è nata dopo la guerra, per assicurare anche la pace per il futuro, la collaborazione fra i paesi, queste sono tutte le cose che la gente a noi non sa purtroppo, non è la colpa della gente ma forse è la colpa di noi che ci impegniamo nella politica, che non lo diciamo, tanti politici non lo vogliono dire. e quindi il mio scopo generale è di essere molto come pro-europeo, nel senso non critico, ma in un modo costruttivo diciamo. Non lasciatevi scorreggiare, non lasciatevi scorreggiare, perché il futuro è davvero nostro, noi siamo già nel presente ma creiamo il futuro e dobbiamo impegnarci. Chi ha la voglia, a chi piace impegnarci, per favore, non come dice anche papà, non ci sediamo sul divano, dobbiamo andare e fare la nostra parte.